Siamo all'ingresso di IFA 2017, siamo all'interno della prima parte del padiglione, all'ingresso sud e qua c'è un'esposizione delle tv, queste sono le sunbar di Samsung l'azienda qua ha esposto tantissimi prodotti che vanno anche al di là del mondo pc, del mondo smartphone di questi accessori qua, compresi i nuovissimi monitor con tecnologia QLED che sono stati annunciati ad inizio giugno in quel periodo là questo è il modello da 32 pollici e questo è lo strepitoso modello da 49 pollici vi faccio vedere il foglio illustrativo, 49 pollici con rapporto di 32 noni 32 noni significa che è un prodotto praticamente sviluppato in rettangolare e guardate poi insomma qua accanto, mi metto qua accanto per farvi un po' vedere le dimensioni guardate la mia mano quante volte entra all'interno del pannello è un pannello VA, ha una risoluzione di 3840x1080 e quindi è un pannello che in altezza insomma copre lo spazio di pixel di un comune RGB è un pannello curvo 1800R quindi significa che serve un metro e ottanta cioè si crea un raggio di un metro e ottanta se si uniscono tanti di questi monitor da 49 pensate che cosa fantastica che sarebbe ha questa enorme staffa qua sul fondo però supporta anche il montaggio a muro il montaggio VESA chiaramente con una staffa un po' diversa perché dietro è abbastanza grande il tutto si può orientare sia in, vedete, si può inclinare in avanti e in alto e si può un pochetto regolare vedete, ora adesso non lo faccio perché questa è un'esposizione legato dietro però insomma si può un pochetto regolare in altezza e in larghezza se poi tu passi qua di lato faccio un attimo vedere, vedete la curvatura 1800R dietro ci sono le porte che comprendono una HDMI, anzi due HDMI una DisplayPort, una Mini DisplayPort quindi un bel set di porte poi le classiche USB sono tre, due in ingresso e una in uscita se non ricordo male insomma c'è anche un hub USB, controlli sono nascosti sul fondo se vi parlo un attimo anche delle specifiche tecniche di questo monitor Samsung riguardano soprattutto la luminosità e prendo qua il foglietto illustrativo perché si parla di un 600 nit di picco in modalità HDR e di 350 in modalità standard con una copertura del Gamut P3 pari al 95% e una copertura dell'SRGB del 125% ha una leggera finitura opaca, è molto però, è abbastanza liscia non è porosa, non è granulosa toccandolo così, adesso lo sto facendo con le unghie guardano anche un po' male, ha un bordo abbastanza sottile sarà nemmeno un centimetro, poi considerate che va verso l'esterno vedete le curve sono fatte che vanno un po' verso fuori e questo contribuisce a rendere... mi metto un attimo qua, fai un attimo vedere da dietro la grandezza così davvero devo girare la testa per arrivare alla parte opposta del monitor 49 pollici, ripeto, 32 noni me lo immagino a casa con Premiere che copre fine qua qua potrei avere un enorme preview, sotto magari una lista di file me lo immagino anche con 1, 2, 3, 4, anche 5 finestre del browser una affiancata all'altra insomma è un monitor favoloso per il multimedia tra l'altro la risoluzione non è neanche così alta quindi non serve nemmeno una scheda video chissà quanto potente insomma per gestirlo al meglio la tecnologia Cooled poi ci permette di avere colori fedeli molto sparati, insomma un monitor che potrebbe andare bene sia per il multimedia a fatto di avere contenuti che poi rientrano in questo modo qua sia per il gaming che poi supporta il FreeSync 2 Samsung dichiara 144Hz di frequenza ho detto tutto, ho detto tutto tranne il prezzo che dovrebbe stare attorno ai 1500 dollari ora non so i prezzi in Europa e in Italia comunque è un prodotto che è già disponibile da noi quella è la sua variante con le stesse identiche specifiche però da 32 pollici esiste anche un modello da 27 maggiori informazioni comunque su questo bel monitor che spero di provare quindi testare un pochetto più con calma a casa in un contesto lavorativo più serio ve le lascio nell'articolo che è abbinato qua sotto in descrizione trovate il link per andarci direttamente insieme a quello per seguire tutti i video qua da IFA 2017 di Berlino siamo al secondo giorno di fiera abbiamo ancora due giorni pieni di video da farvi vedere quindi continuate a seguirci